Siamo a Vago di Lavagno al panificio Bonetti di Anna e Romano e con Romano siamo qui per chiedere perché anche il panificio Bonetti è uno dei nuovi partner di AGSM Verona Calcio Femminile. Perché abbiamo tenuto importante usare questo progetto del Verona Calcio anche noi come azienda. David, come ha detto al marketing della società hai molto lavoro ma sicuramente è un Verona che sta allargando le proprie conoscenze, sta allargando i propri ambiti a tutta la provincia di Verona e a molte realtà importanti. Sì, il nostro è un progetto che raggruppa le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese. Il panificio ha sposato il nostro progetto anche soprattutto per avere una crescita e sarà compito nostro dargli una mano in questo ambito.